che faccio ma? ma tu hai capito com'è qua? salam? eh salam, prosciutto, formaggio, una quotidiana buona no? e noi ci facciamo un bel caffettino e non ce ne frega un cazzo alla salute e che se la piglino nel culo quei coglioni che stanno in parlamento attaccatevo alla nostra è caffè ragazzi alla mattina no con la sciarpa non lo puoi bere ciao ciao